So vivo Gente che pensava che ero deceduto Che non avevo retto All'emozione Negativa della sconfitta di ieri sera Ma per chi mi segue Su Instagram sa tutto quello che è successo Perché dopo il danno della sconfitta È arrivata la beffa O meglio sono arrivate le beffe Poi lo vedrete anche nella live reaction Quello che è successo Perché quello non lo potete sapere Durante la partita Cosa è accaduto Ma quello poi lo vedrete a tempo debito YouTube non funzionava Ieri sera Ci ho provato in tutti i modi A caricare il post partita Sto contenuto ci ho rinunciato a farlo Perché dico tanto Come faccio a fare Non me si carica quello Lo faccio domani mattina con calma Cerco di sbollire anche un minimo la rabbia Per tutte le situazioni che si sono venute a creare E sapete come si è risolta sta questione? Che merote ancora di più il culo Che stanotte non ho dormito Perché non riuscivo a dormire I contenuti che non sono riuscito a pubblicare La Roma che ha perso In vista della partita di Rito Una catastrofe Ben tornati e ben ritrovati Sono qui per dare i voti ai calciatori della Roma Ai calciatori dell'Evercuser non ho nessuna intenzione Dei dare i voti Vedi che sono tutti i dieci Dal primo all'ultimo Hanno fatto una prestazione veramente Chi più chi meno Hanno fatto una prestazione veramente pazzesca E sono stato il primo ad ammetterlo a tempo debito Io l'ho ammesso a tempo debito ieri sera Voi l'avete visto stamattina praticamente Sul primo canale YouTube del post partita Lasciate mi piace se volete altri pagelloni Che siano sfogo, godo, codicchio, sfoghicchio Quello che vi pare Su questo canale tantissimi mi seguono Ma ancora non si sono iscritti Se volete supportare questo canale Questo progetto Se volete supportare me e mio fratello Vi basterà fare questo gesto gratuito Iscrivetevi e attivate la campanella Ogni volta che pubblichiamo qualcosa Non vi perderete più nulla Su tutti i canali YouTube che abbiamo Ne abbiamo tre Due dei calcio e un extra calcio In descrizione come sempre Compariranno qui durante il video Mamma mia ragazzi Mamma mia Non me l'aspettavo Come ho già detto nel post partita Soprattutto per Scusate Per come eravamo partiti Comunque la traversa di Lukaku Sembravamo all'altezza della situazione Mi rode tantissimo Proprio perché Ho visto quell'involuzione Dal punto di vista psicologico Dopo l'errore di Garsdorp E adesso arriviamo ai voti dei singoli Cominciamo da Svilar Svilar Chiamatelo come vi pare Io non credo che abbia tante colpe Sui gol Il secondo gol ragazzi Si è inventato un gol De quelli clamorosi Cioè La veramente Credo che qualsiasi portiere Non avrebbe potuto fare assolutamente nulla In occasione pure del primo gol Ragazzi Svilar non c'ha responsabilità Gli voglio dare una sufficienza Seppure un po' più tendente ragazzi Verso una lieve insufficienza Perché Per la prima volta Ho visto uno Svilar ragazzi Che non riusciva a trattenere una palla In tre o quattro occasioni Non lo so Bo le traiettorie dei palloni C'hanno il piede alla Olli E Benji Gli avversari Tiravano più forte del dovuto Palle che Che facevano Facevano così Facevano i paraboli I giri Non è riuscito a trattenere una palla Provavo a parare Vedevi sempre il ritardo Non si sa come Vabbè Diciamo che alla fine Seppiglia una sufficienza Ecco Immediatamente ragazzi Subito A gamba tesa su Karsdorp O meglio E Karsdorp che È andato a gamba tesa Su de Su de noi tifosi della Roma Lo vedrete poi Nella live reaction Si era già visto In un'altra situazione Prima Del regalo clamoroso Che ha fatto Dopo quella Dopo quella chiusura Clamorosa Clamorosa tra l'altro Già aveva fatto Un'incertezza Già Fabio aveva detto Questo è da tirare fuori Sta solo a far danni Ed effettivamente Ragazzi Poi Corsennote poi Ripensandoci Se De Rossi Avesse messo Qualcun altro Al posto suo Come sarebbe andato a finire Secondo Facile parlare Con I Corsennote poi I C e I ma È da 3 Karsdorp Ragazzi Io non arrivo manco A dagli 4 4 e me È da 3 Karsdorp Mi dispiace Ma io poi ripenso Questo è il paradosso Più clamoroso Che mi fa bestemmiare Le bestemmie Ragazzi Stanotte Più ci pensavo E più me veniva Da bestemmiare Qualche settimana fa Parla Andatevi a recuperare Contenuti Parlavamo di 3 Perché noi abbiamo 3 terzini Su una difesa 4 O comunque Su un esterno All'inizio con Mourinho Era un esterno De Centro Camp 3 alternative 3 alternative Sulla destra Karsdorp Selig E Christensen Vi ricordate che cosa Dicevamo Ed era la realtà Oggettiva dei fatti Che dei 3 All'inizio del campionato Non ne facevano uno E che De Rossi adesso era Arrivato in difficoltà Perché tutti stavano Fornendo prestazioni Veramente importanti Una volta Karsdorp Una volta Selig Una volta Christensen Ragazzi Hanno fatto Alternandosi Delle prestazioni Veramente incredibili E adesso siamo ritornati Con gli interessi Indietro nel tempo E la situazione È peggiorata Perché ragazzi Ad oggi Quello che si sta Salvare più Per quello che ho visto Nell'ultima partita È Christensen Che è sempre stato Delle gerarchie Il terzo Per Daniele De Rossi Non so se mi sto spiegando Karsdorp commette Un errore Veramente imperdonabile Perché è imperdonabile Quell'errore Ragazzi miei In una Semifinale Di Europa League Mi sono piaciute Però anche le parole De De Rossi Rivolte al calciatore Io poi sono stato Il primo a dire Se vince tutti insieme E se perde tutti insieme Quindi non me Le sono messo a Punta il dito Solo ed esclusivamente Su Karsdorp Seppur c'ha responsabilità Però ragazzi È inconcepibile Dopo una chiusura Del genere Un errore così È veramente inconcepibile Andiamo avanti E vediamo quello Che dobbiamo fare 3 a Karsdorp Angelinho per me È da 6 Dice perché è da 6 Perché Entra Fa il suo lavoro Senza Senza alcun problema Secondo me Ha provato A contenere Le folate offensive Si vede gli altri Se è proposto in avanti Qualche pallone in mezzo L'ha messo N'ha fatto tanni Ragazzi Questa è la differenza E gli do la sufficienza Il meno peggio Uno dei pochi sufficienti De questa partita È Mancini Secondo me Perché Se poi ripenso La partita È sempre quello Che ci mette Quel qualcosa in più Dal punto di vista Della persona Poi sempre C'ha qualche acciacchino Ogni tanto Se tocca Una palla Se tocca C'ha sempre qualcosa Che non va Poi non si sa Come continua a giocare È uno Tanti errori In impostazione Tanti Dice Per fortuna Che l'avevo recuperato Per fortuna Avete visto Come è andato a finire Ragazzi miei Dici Dal giocatore Più importante Della difesa Da uno dei leader Per eccellenza Che gioca Col contagocce Tra un incertezza Un infortunio E un altro Dice Meno male Stai sicuro Che fortuna Anteproccupante Preoccupace Si sono culati La moglie Ecco Perfetto È da 5 Smalling Per quanto poi Ragazzi Vanno dati i meriti Anche agli avversari Per come hanno giocato Per come si inserivano Ci hanno messi Veramente tanto In difficoltà Ma pure Noi ci avevamo messo Veramente del nostro Io Spinazzola Gli do 4 e mezzo Dice Ma che cazzo stendi Ho dato 3 a Karzor Ma Spinazzola Gli do da 4 e mezzo Perché tra Grimaldo E Frimpong Ragazzi Spinazzola Dal punto di vista Del contenimento Poi Se dobbiamo giudicare La partita Dal punto di vista Offensivo Bisogna fare una media Ponderata tra i due voti Sono due voti diversi Perché fino a un certo punto Spinazzola ragazzi Quando ci stava da pizzare Quando ci stava da spinge Quando ci stava da saltare L'uomo E da mettere palloni in mezzo Lo ha fatto Lo ha sempre fatto In più di un'occasione Quindi È una partita Tecnicamente sufficiente Forse anche più Che sufficiente Dal punto di vista Della spinta Ma all'esterno Ha tutta fascia O un terzino Che dir se voglia Ragazzi Deve pure sapere difende E solitamente Spinazzola lo sa fare A sto giro no ragazzi Cioè Troppo forti Troppo superiori Quelli che gli hanno giocato Sulla sua fascia De competenza Ne ha visti praticamente mai Ribadisco Tra Grimaldo E Frimpong Io non lo so ragazzi Da mettese Le mani ai capelli Dal punto di vista Difensivo Un gol sicuro È responsabilità Anche di Spinazzola Quattro e mezzo Cristante almeno peggio Secondo me ragazzi Non tanto E non solo Per quel colpo De testa Dove Non mi ricordo Se erano Lukaku Sì era Lukaku Ancora Abram Ancora non era entrato Lukaku e Smalling E Smalling Dove hanno chiudo il passante Per buttarla dentro Ragazzi Sono rimasti così Come tu Torsi de Broccolo Sta palla Che sfila E Cristante Che non riesce Indirizza bene Oltre quell'occasione È il centrocampista Che mi ha dato più impressione Di poter fare qualcosa Ragazzi De poter dare un minimo Di svolta A sta partita Ha cercato Nei suoi limiti Ovviamente Non è bastato Però la sufficienza Mi sono sentito Detagli La cosa che non mi sento Di dare a Paredes L'unica cosa decente Della partita De Paredes Ragazzi È stato Quel Quel colpo Così Qua Valla rimessa a mezzo E Lukaku Che colpisce testa E prende la traversa Per il resto Che vi ho detto Nella partita precedente Ho detto Forse è mancato Paredes Se vedeva A livello di centrocampo Che mancava Il metronomo Ragazzi Ce l'abbiamo avuto A sto giro È veramente È stato Subbissato Surclassato Eclissato Inculato Dai centrocampisti Avversari Non mi è piaciuto Per niente Ragazzi Non voglio Da solo responsabilità A lui ovviamente Ma È stato uno dei peggiori In campo A mio modo di vedere Pellegrini Ed ho cinque e mezzo Sì Quel tiro Che prende tre bottigliette E fa strike Cioè Manco se ci avesse voluto Pialla P L'avrebbe segnato Ragazzi A parità di situazioni Che la porta davanti Dice Dei piai bottigliette Invece che segnano Ha buttato dentro Segnano Piai bottigliette Tutte e tre Faccio un po' per aria A parte quello Qualche situazione Ha provato Qualche linea di passaggio Ma ragazzi Fanculo va E Sharawi Voto cinque Tanto sacrificio Come al solito In fase offensiva È nullo Perché poi Se te devi sacrificare Da una cosa e un'altra Da qualche parte Da un lato Da una parte Deve penne Se dici a Roma E una volta Devo andare bene Con Milan Due volte Devo andare bene Con Milan Perché è successo In due partite Del Milan Soprattutto in una In altre ovviamente Poi gli allenatori Prendono le contromisure E ti annullano Determinati calciatori Chiave della partita Questa è secondo me Gli do cinque Gli do cinque Gli subentra Cinque perché Ovviamente Gli avrei dato Cinque e mezzo Non ci avessi avuto Quell'occasionissima Alla fine È stato disturbato Da un calciatore Del Bayer Almeno non mi ricordo Chi Che gliela Gliela un po' Sporca All'ultimo secondo Ma È stata data Un'imbucata Se non lo sbaglio Proprio da Pellegrini C'hai la possibilità Di spaccare la porta Di segnare quel cazzo De goal Questo è il paradosso Perché qualcuno dice Sì è vero Ci hanno presi a pallonatene Ma quante situazioni Piccole situazioni Per i mette In piedi la partita Ragazzi Tu fossi riuscito Ad essere un po' Più cinico Non meritando Ma forse Forse qualche cosa A casa Te la potevi portare E avendoci La mentalità giusta Come ce l'hai avuta Fino a prima del gol subito Ragazzi Non era una partita Così impossibile Non era una partita Così impossibile E gli do cinque A Zmun Perché ripeto Davanti alla porta La mastica La ciancica E il portiere Se la prende Come nulla fosse Di balla è da cinque e mezzo Da cinque e mezzo Perché si è acceso Veramente poco Ieri sera Non mi è piaciuto Granché In ombra Per gran parte Della partita Qualche piccolo Sprazzo Di calcio Ragazzi Sicuramente meglio Rispetto a Del Sharawi Non li paragono Del Sharawi Gli ho dato cinque Di balla Leggermente meglio Ma è comunque Una prestazione Insufficiente In una semifinale D'andata Da chi ti aspetti La svolta Da chi ti aspetti La giocata Da chi ti aspetti Che ti possa Cambiare la partita In qualsiasi momento Da Paolo Di balla Voto cinque e mezzo E ad Abram Ragazzi Sarò cattivo Che vedevo di Perché poi Ribadisco Gli voglio bene Ragazzo È rientrato Da poco Ha segnato Il gol Del 2 a 2 Contro il Napoli Non c'ha avuto Tanto minutaggio A disposizione Ma gli do quattro Dice addirittura Peggio di Spinazzola Che gli ha dato Quattro e mezzo Te sei mangiato Un gol troppo facile Te sei mangiato Un gol veramente Troppo facile Perché se lì Tu Dopo la situazione De Azmon Dopo Pellegrini Che ti piglia Le tre bottigliette Dopo la traversa De Lukaku Delle storie Contà Per chi Dice che sì Siamo stati Surclassati Ma Le tue situazioni Ce le hai avute Se tu butti Dentro quella palla In rete al 94 Un conto È perderla 0 a 2 E poi devi giocare Ritorno Un conto È perderla Con gol De scarto Sono due cose Completamente diverse E credo sia stato Il gol più facile Mangiato All'interno Di questa partita Da parte Di un giocatore Della Roma Senza se Senza ma Era semplicissimo Ragazzi La porta era vuota Dovevi solo Indirizzarla E questo è quanto E ci ritroviamo A rincorrere Un avversario Che non perde Da 46 Sono diventate 47 Partite tra l'altro Perché erano 46 Prima di questa Hanno addirittura vinta Sono 47 E io ho paura In vista del ritorno Ragazzi Spero che la Roma Possa fare qualcosa Bisogna crederci Perché se non ci credi Tu Tifoso Se non ci credi Tu Squadra Non vincerai mai Non la ribalterai mai Sta partita Le partite si ribaltano Solo credendoci Ma ci arriveremo A tempo debito Su quello Abram 4 De Rossi male Ragazzi De Rossi 5 De Rossi 5 Perché Forse sono anche Responsabilità sue Se non è riuscito A dare la mentalità giusta Nel momento Club della partita Perché Di fronte alle difficoltà Più grandi Vedi La situazione De Karlsdorp Non è riuscito A dare quella svolta Quella sversata E anche De merito Della squadra Ovviamente Che se Cagata sotto Parliamoci chiaro Perché poi Hai smesso Completamente di giocare E sei andato parecchio In balia dell'avversario Cioè Hai sentito Veramente tanto Dell'errore L'errore del singolo Poi non si deve Trasformare In incertezza Del gruppo Cioè Là si vede Una grande squadra E una squadra Che Quando va tutto bene È facile Vince sempre E comunque Fa una striscia Di imbattibilità Sono bravo Sono bravo Sono bravo Ma l'ho sempre detto L'ho detto tante volte Durante queste settimane Quando la Roma Non perdeva mai O comunque Ha perso poco Fino a quel momento La vera squadra Esce fuori Nei momenti di difficoltà Mi dispiace Dillo ragazzi Ma nel momento Di difficoltà più grande Nel momento Più importante Della stagione Abbiamo ancora una volta A prescindere dagli allenatori Sulla panchina Dimostrato Dei limiti Veramente Gravi E a vero si Iedo 5 Perché Ragazzi Anche agli allenatori Vanno date responsabilità Per sconfitte Di questo tipo Ma è sbagliato dire Che è sempre Solo responsabilità Dell'allenatore Ricordatevelo sempre È responsabilità De tutti quanti Grazie a tutti